Salve a tutti amici, oggi è 4 agosto 2019 e mi ritrovo a distanza di un anno e qualche giorno di nuovo in via San Francesco d'Assisi qui all'intersezione con via Latilla o comunque in via Villeri. Oggi, ripeto, a distanza di un anno sono qui perché andremo a potare questo albero che di nuovo i rami sono diventati abbastanza lunghi quindi magari non si può camminare sul marciapiede però comunque è passato un anno e come potete ben vedere il palo era storto ed è ancora storto. Allora, mentre taglierò col forbicione qualche ramo aspetto magari qualche passo che mi dia una mano per adrizzare questo palo perché sarà più bello vedere un palo dritto e poterci passare da sotto l'albero perché in queste condizioni sicuramente non ci si passa. Beh ragazzi, sono passati 2-3 minuti e adesso qui la situazione è tutta un'altra storia come l'anno scorso quindi anche la manutenzione del 2019 è stata fatta, aspettiamo il 2020 e magari aspettiamo anche che passi qua al punto perché questo palo non si può vedere, non si può vedere, non si può vedere. Beh, anche lui l'abbiamo sistemato, adesso sta meglio di prima. Buona giornata a tutti. Grazie.